Musica Si è conclusa con successo e una grossa presenza di pubblico la 22esima edizione del mercatino di Natale a San Potito Sannitico nell'Alto Casertano numerosi gli stand che esponevano dal dolce ai tanti lavoretti artigianali tipici di Natale e dai liquori alle numerose convetture Qual è il prodotto che sta vendendo di più? Tra i miei sicuramente il miele e millefiori Il suo invece? Per me che vendo liquori sicuramente anice e liquirizia che è quello che si vende di più Ma ovviamente non sono mancati tanto attesi manicaretti tipici della zona Fritti al momento davanti allo sguardo dei tanti in attesa di assaggiarli Signora che cosa sta facendo esattamente? Allora i torcinelli che facciamo con acqua, farina, sale e rosmarino Ma sopra che cosa mettete? Lo zucchero o no? No, un pizzico di sale così, basta Soddisfatti dicevamo anche i tanti visitatori che hanno follato i tipici vigoletti nel cuore di San Potito Sannitico Allora San Potito per il mercatino, uno dei tanti Che cosa ha trovato? Quali sono le novità? Assolutamente, è sempre un piacere partecipare a queste manifestazioni E San Potito, devo dire la verità, è uno di quei paesi che te lo fa sentire particolarmente Perché ci mette il cuore, ci mette l'anima E come al solito anche quest'anno mi è piaciuto esserci stato Ci sono tante cose interessanti, ci sono delle bancarelle con i liquori Con i pupazzetti di Natale molto particolari Devo dire la verità, sono contento Si mangia anche? Diciamo che su questo non posso pronunciarmi Perché aspetto che si faccia più tardi per assaggiare un poco di cose buone sicuramente Dal mercatino di Natale di San Potito Sannitico è tutto